Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia, sono circa 6-7 notti di seguito che vengo svegliato di continuo attraverso le armi ad energie dirette ad onda convogliata, mentre mi vedono con le telecamere a raggi X, telecamere a scansione sintetica, telecamere a microonde, telecamere con frequenze di contrasto millimetriche che vedono attraverso i muri della mia abitazione dal satellite Spia che sta al nord Italia, una delle tecnologie che stanno sperimentando su numerose cave umane nel territorio nazionale italiano perché devono vedere le interazioni dell'elettroencefalografo transcranico satellitare che manipola le nostre frequenze fisiologiche attraverso gli attacchi con le armi ad energie dirette, attraverso il collaudo della tecnologia che manipola i nostri ragionamenti e che manipola le nostre frequenze fisiologiche che vengono destabilizzate da campi elettromagnetici e da gravissimi ustioni all'interno del mitollo osseo e all'interno del cuore. Questi sono, lo ribadisco, servizi segreti esterni ufficiali medici dei nuclei interforce dei servizi segreti deviati di Roma che vengono coordinati da un generale di brigata che coordina la regione Lazio, i nuclei operativi speciali dei servizi segreti di Roma e che collaborano con società massoniche, ripeto, collaborano con società massoniche che vendono armamenti militari e armamenti satellitari alle forze armate di tutto il mondo, anche clandestinamente, anche attraverso il contrabbando di tecnologie militari che vengono effettuate dall'Italia e dalla nazione italiana, specialmente dai nuclei operativi speciali dei servizi segreti esterni deviati di Roma. Tutta la notte alzano queste frequenze e delusioni delle patologie come stanno facendo adesso, mi attaccano con le armi ad energie dirette parlandomi in testa in comunicazione telepatica e mi fanno lavaggi del cervello e torture fisiche e psicologiche attraverso gli attacchi multipli delle frequenze. Le parole che vengono immesse nel nostro cervello sono le frequenze che vengono camuffate attraverso la mappatura celebrale e che viene effettuata solo ed esclusivamente con il satellite respia, attraverso un laboratorio dei servizi segreti di intelligence, servizi segreti e deviati che operano per questo collaudo di questa tecnologia. Quando mi fanno sentire le parole carine sono frequenze che creano la stabilità fisiologica, quando invece mi fanno sentire parole minacciose, aggressive e violente mettono frequenze che devono crearci la rabbia e l'odio. Non so se vi siete accorti che in Italia ultimamente le persone impazziscono senza motivo, prendono coltelli, pistole, fucili e sterminano le loro famiglie e dopo si risvegliano e chiamano le forze dell'ordine e gli dicono oddio ho massacrato tutta la mia famiglia, ho ammazzato tutti. Camminano per strada, vedono un vicino, prendono la mannaia e lo tagliano a pezzi, poi chiamano le forze dell'ordine, oddio ho tagliato a pezzi un vicino. Non avete capito che questo è il collegamento dei sistemi manciurian candidate per costringere le persone innocenti sotto stato ipnotico e sotto stato di narcolessia forzata ad ammazzare i propri cari? La stessa identica tecnologia che stanno utilizzando per pilotare i manciuriani terroristi presunti ISIS che vengono incitati alla guerra santa. Questo è il sistema del controllo mentale, questo è il sistema del controllo globale. Più manciuriani pilotati dai satelli di spia con elettroncefalografo satellitare fanno attentati e più i servizi segreti italiani vendono i satelli di spia, vendono le tecnologie militari e fateli da Roma c'è una società massonica multimiliardaria che dichiara fatturato di 40 miliardi l'anno solo per collauda, attestazioni e vendita di tecnologie militari. No la vendetta personale, no il vicino di casa che ti fa la tortura, no il parente che ti attacca con questi sistemi. Esperimenti militari dei servizi segreti deviati esterni. Un saluto a tutti amici di Emiliano Babilonia. Se io vengo eliminato sono stati i servizi segreti di Roma dopo che mi hanno fermato il 10 febbraio del 2001 i nuclei operativi speciali dell'arma di carabinieri io sono stato collegato a un satellite di spia che doveva mappare le mie frequenze cerebrali, manipolare i miei ragionamenti e costringermi a fare dei reati, ma non ci sono riusciti. Un saluto a tutti amici di Emiliano Babilonia, vittima e cavia umana dei servizi segreti deviati di Roma. Grazie a tutti amici di Roma. Grazie a tutti.